ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerò i foglietti illustrativi degli alimenti veterinari più utilizzati prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori alimentari parafarmaci farmaci veterinari alimenti veterinari o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'alimento veterinario sul kill free flow agro labo spa ultimo aggiornamento 29 marzo 2021 informazioni commerciali confezioni formulazione indicazioni posologia informazioni commerciali titolare agro labo spa concessionario agro labo spa confezioni salt il free flow 25 kg formulazione 1 kg formiato di ammonio e 295 227 mila 330 mg propionato di ammonio e 284 83 mila 560 mg acido formico e 236 41 mila 180 mg supporto di origine minerale cubi a 1 kg indicazioni salt il ff è composto da formiato di ammonio propionato di ammonio e acido formico che sono completamente metabolizzati come fonti energetiche dagli animali salt il ff ha un ph compreso tra 5 e 5,5 ed è composto da microgranuli contenenti acido formico ed acido propionico e le relative basi ammoniacali che servono da protezione e da deposito degli stessi favorendo un rilascio lento e costante degli acidi nella loro forma monomerica che è molto più attiva della forma di merica ciò avviene in virtù di un gradiente di tipo osmotico l'effetto del mangime del salchile ff è tale da neutralizzare in 24 h il 95 per cento dei batteri gram negativi presenti negli alimenti e nell'intestino degli animali e continua ad agire nel mangime contro batteri gram negativi e muffe per circa tre mesi salchile ff è un antibatterico e antimuffa naturale alternativo che rispetta la flora batterica positiva degli animali capace di prevenire e controllare la contaminazione dei mangimi da parte dei batteri e muffe e il conseguente sviluppo di patogeni nell'animale stesso blocca inoltre la diffusione dei patogeni fra gli animali per trasmissione orizzontale i gram positivi che naturalmente popolano l'intestino sano non vengono distrutti posologia miscelare accuratamente ai mangimi 100 400 g di premiscela barra 100 kg di mangime fonte codi fa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato